Il professor Petrosino, ormai un amico del Festival Biblico, questa sera è venuto a parlare di Dio, Dio e parola. E allora qual è la prospettiva per gli esseri umani? Ma è più importante il fatto che Dio sia parola o che Dio parli all'uomo ancora oggi? No, ecco, il tema di Dio parola è esattamente questo, cioè nel dire che Dio è parola non si può ridurre questa affermazione al contenuto. Quello che ho cercato di dire è che nella parola è compreso certamente il contenuto, la parola di Dio dice qualcosa, chiede qualcosa, ma al tempo stesso la parola è anche una parola che si rivolge all'uomo e quindi si rivolge all'uomo e nel momento in cui si rivolge all'uomo lo istituisce, lo rende capace, lo rende degno di risposta. Cioè il problema è esattamente questo, che la parola di Dio rende l'uomo capace di risposta e quindi lo rende responsabile. Questo fra l'altro è uno dei contenuti di fondo del discorso biblico, nel senso che appunto l'uomo è chiamato non solo a custodire il creato o ad esempio a costruire la legge, a custodire la legge, ma è anche chiamato a coltivare il creato e quindi a dare il suo contributo, a incrementare. Io la dico sempre questa cosa, grazie a Dio non siamo Dio, siamo noi, ci ha creato e se ci ha creato ha creato noi, noi, con la nostra faccia, la nostra sensibilità, noi non siamo una giunta, siamo gli attori della scena, ha creato qualcuno con il quale parlare. Un Dio che entra in relazione con l'uomo e che lascia all'uomo spazi di autonomia, ma non solo li lascia, quasi obbliga l'uomo ad essere libero e ad essere creatore a sua volta. Sì esattamente, cioè lo chiama continuamente a questo, cioè sostanzialmente Dio chiama continuamente l'uomo alla sua libertà e quindi alla sua responsabilità. Cioè quindi questo precede anche il fatto che Dio magari condanna questo comportamento o invece loda l'altro comportamento. Ciò che c'è al fondo di questa condanna e di questa lode è sempre l'invito all'uomo ad intervenire e a collaborare attivamente. Grazie.